Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente tornati con un nuovissimo video e c'è Manchester United-Milan, c'è subito uno scontro tra un giocatore United e Sandro Tonali appena avesso a terra, sembra da Amad, proprio Amad Diallo, ex Atalanta è andato a segno oggi, intanto esce qualcuno, vediamo chi prestazione Milan buona, annullati due gol in 15 secondi, clamoroso però si è cagato due gol di United, uno con James, ma soprattutto quello di Harry Maguire si è cagato due gol, io avevo pronosticato 3-1 per adesso attacca il Milan, però allontana il Manchester tocco di mano, tocco di mano, clamoroso, ma come fai a non dare un tocco di mano così attacca, ma dai, arbitri scandalosi, scandalosi, mamma mia, attacca Milan, Milan che ancora il pallone è il tiro, ora è spinta, sarà calcio ad angolo, l'1-0 all'Oltra Ford è un risultato non ottimo in vista e il ritorno, però, come se l'andà bella, dai, siamo al Milan, 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 Paramozzi, corso in mezzo lo riprende il Milan, lo riprende il Milan, povera di Ederson, lo riprende il Milan, lo riprende il Milan La riprende Milan La riprende di nuovo E la riprende di nuovo La riprende Milan 1-1 1-1 Milan Simon Cryer Simon Cryer Che amoroso Chi è R? Una delle sorprese più grandi in questo campionato Il colpo di testa L'incornata E fa 1-0 Milan Fa 1-1 anzi Milan Clamoroso Esulta Padre Pio l'impanca Tutti a abbracciarsi Ma è clamoroso ciò che succede Allo Trafford E adesso attacca subito Il Manchester United Ma spazza subito Proprio stesso Simon Cryer Simon Cryer Primo gol in Europa League di quest'anno La Sevilla E Fenerbahce va in rete E adesso Può essere decisivo Questa rete in vista del ritorno Perché 1-1 Manchester Stavo per dire 1-1 1-0 Allo Trafford Non è un bel risultato Assolutamente Ma Non è nemmeno troppo brutto Perché è solo Tra virgolette Un gol E adesso attacca il Milan Che vuole il secondo Vuole il secondo Però lontana Finisce qua Abbraccio Del Manchester United Ma anche Di due gol annullati Godi di allo E gol Allo scadere Di Simon Cryer In ogni caso ragazzi Noi ci vediamo dopo Col post partita Di Roma E sciaccar Bella Allo scadere